Allora, siamo con Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico. Oggi qui a Palazzo Madama si presenta la proposta di questa modifica legislativa per il Festival Monteverdi di Cremona. Sì, vogliamo che questo festival possa essere inserito in quelli che sono i festival ricordati nazionalmente, quindi venga riconosciuto un valore anche internazionale, quindi non abbia solo dei contributi, una tantum, ma possa essere considerato come un festival che possa ricevere davvero degli interventi strutturali, un intervento strutturale, ed è una proposta di legge che nasce dal territorio. Abbiamo accolto la sollecitazione del sindaco di Cremona, abbiamo accolto la sollecitazione dell'assessore alla cultura e quando dico abbiamo è perché i parlamentari eletti in quel territorio di qualsiasi colore politico hanno deciso di mettersi insieme, di lavorare e di produrre questo risultato e vedremo in che modo andremo avanti. Grazie